Di fronte ai massacri dobbiamo rispondere con aiuti, anche militari, alla resistenza. E' questo il punto chiave del discorso del capo del governo dopo la richiesta di aiuto avanzata da Zelesky nel suo intervento alla Camera dei Deputati. Tra le opzioni che Roma ha sul suo tavolo per aiutare l'Ucraina, ci sarebbero anche gli antidroni e i sistemi elettronici per disturbare gli attacchi russi. Nuove armi per mostrare che l'Italia farà la sua parte al fianco dei paesi alleati, ma che ora sono diventati un caso politico. Infatti, se da una parte Draghi è intenzionato ad andare avanti, convinto fino in fondo delle sue scelte, dall'altra in Parlamento c'è chi si dissocia. E sui social è boom dell'hashtag not in my name, non in mio nome. Anche i fanesi sono preoccupati e contrari a questo tipo di aiuti. Lei è d'accordo sull'invio delle armi da parte dell'Italia all'Ucraina? Preferisco di no, però penso che la soluzione sia diplomatica e non con le armi. Sono contro la guerra e quindi sarei contro anche nel mandare le armi. Penso che debbano essere trovate altre soluzioni alternative? Sì, la soluzione alternativa sarebbe smettere di fare la guerra dopo quello che la storia ci ha insegnato. Siamo qui a punto a capo, ancora a cercare di conquistare territori non nostri. Siamo un paese ridicolo, facciamo ridere i polli, ci facciamo prendere in giro da tutta Europa, da tutto il mondo e questo è quello che penso io. Non bisogna aiutare a fare la guerra, basta. È uno schifo, è vergognoso sinceramente. Non è giusto comunque mandare le armi eccetera, cioè alimenta la guerra comunque. Hai paura, sei preoccupato? Un po' sì. Ci sentiamo coinvolti nel senso etico, morale diciamo, più che altro, più che l'arrivo, un'espansione, per ora, ma non si sa. Io sono contrario, perché ci mettiamo in una guerra che ha un evento storico molto importante, in quanto Stalin ha ucciso non so quanti milioni di ucraini, di contadini ucraini. Però non c'era l'atomica, adesso questa guerra può diventare una guerra atomica, cioè con la guerra atomica abbiamo chiuso, tutti, tutti abbiamo chiuso. Comunque ha detto Putin che il 9 maggio finisce l'operazione. Speriamo. Speriamo, speriamo. Comunque io sono contrario all'invio, anche perché le armi italiane non è che gli mandiamo. Anche se abbiamo venduto invece le armi cararmati dismessi alla Russia, abbiamo venduto parecchi cararmati. Anche perché si parla di circa parecchi milioni di euro di queste armi. Esatto, anche perché l'Italia è un grosso produttore di armi. Io non sono d'accordo, per me è una cosa molto avvilente questa, distruggere tutto il creato per il potere con queste guerre. Quindi è giusto dare le armi? Non doveva esserci sta guerra già dall'inizio. Questa è la mia risposta. Perché fare la guerra? Perché non parlare? Dopo non lo so se, io non sono un politico, se dare le armi può mettere in difficoltà anche l'Italia, perché qui non si sa che può succedere. La guerra è sempre brutta, quindi sarebbe sempre meglio evitare gli scontri armati. Adesso vediamo come andrà a finire. Certo non dipende da noi, il semplice gerente comune.